e il mercato azionario vola nonostante la pandemia continua a salire anche piazza affari anche la borsa italiana sta facendo un grandissimo up nella giornata di oggi ma lo ha fatto anche nei giorni scorsi ovviamente sempre in estremo ritardo rispetto alle borse americane che ovviamente sono sempre il top in queste fasi però oggi ragazzi non voglio parlarvi della borsa americana probabilmente ne parleremo domani ma parliamo della borsa italiana quindi il mercato azionario non strano andiamo a capire quali sono le prospettive del Fuzzimib Italia da qui alle prossime settimane andiamo a vedere un po' di grafici ma poi volevo focalizzare questo video sull'analisi di quelle che sono alcune stocks italiane le azioni italiane top 5 che posso indicarvi in questo momento e che secondo me vanno tenute sotto la nostra lente di ingrandimento è vero che l'Italia in generale ragazzi è un paese un po' complesso per fare business lo sappiamo tutti quanti è vero anche che abbiamo una serie di problemi atavici potremmo dire così da risolvere però ci sono ancora dei settori molto importanti in Italia che possono essere tenuti sotto osservazione se dovesse effettivamente girare tutto come noi ci auguriamo quindi in fase positiva questi settori queste aziende potrebbero performare molto bene nel prossimo anno e dare degli ottimi ottimi rendimenti anche ai traders o investitori di medio periodo ovviamente sempre oculati ragazzi perché con le aziende con le azioni dobbiamo stare sempre molto attenti perciò prima di passare al grafico che già dietro di me vedete la borsa italiana vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto ragazzi lasciatemi anche un mi piace perché mi aiutate come sempre fatemi sapere nei commenti invece se questo tipo di informazioni che sono un po' diverse dalle solite informazioni del mio canale vi piacciono quindi fatemi sapere se vi piace un po' anche queste indicazioni delle stocks relative ai mercati italiani i nuovi mercati americani scrivetevelo nei commenti bene allora andiamo direttamente a guardare il grafico del Fuzzimib Italia ragazzi questo è il nostro indice vedete il mio alert già posizionato che vi fa ben capire che cosa mi aspetto in pratica ragazzi mi aspetto un breakout di quota 18.004 prima di fare eventuali manovre quindi prima di decidere in pratica se metter su un po' di investimenti nella zona italiana ragazzi perché? perché il Fuzzimib 40 il Fuzzimib Italia è anche un indicatore della economia generale del nostro paese soprattutto ma non indica quelle che sono le nostre aziende più grandi che sono Eni, Enel, Unicredit ed è un po' manovrato anche dall'andamento e dalle oscillazioni di Eni ragazzi perché Eni pesa tantissimo sull'indice italiano Eni, Enel e Unicredit praticamente fanno il 60 e passa per cento dell'intero indice italiano quindi sono queste le aziende che muovono un po' il nostro Fuzzimib Italia però in generale il Fuzzimib rappresenta anche tutte le altre 40 aziende più grosse perciò è importante anche capire come si muove per capire se effettivamente c'è e ci potrà essere una ripresa anche nel nostro paese e questo lo vedremo per esempio se il mercato dovesse bucare questo livello di resistenza perché bucando questo livello di resistenza indicherebbe un'inversione di trend di breve periodo di natura di alzista ma tralasciando il discorso che non ritengo opportuno ragazzi nel mercato italiano andare a investire su un ETF che replica il Fuzzimib Italia perché? Perché la diversificazione sottostante il Fuzzimib Italia è troppo bassa perché è una diversificazione purtroppo non effettivamente valida in quanto abbiamo come vi ho detto prima 3-4 aziende che la fanno da padrona mentre le altre sono praticamente troppo piccole quindi se noi andiamo a comprare un ETF per esempio che replica il Fuzzimib Italia ragazzi in realtà stiamo investendo in sostanza su 3-4 aziende che sono Eni, Enel, Unicredit, Fiat e Generali insomma eccetera quindi sono queste 4-5 aziende quindi ne compriamo troppo poco in pratica ragazzi perciò ETF Fuzzimib Italia lo sconsiglio per quanto riguarda una diversificazione sull'Italia purtroppo è un po' più complesso perché dovremmo andare ad acquistare le stocks direttamente quindi è estremamente complesso in questo caso investire sul mercato italiano oppure dovremmo bilanciare l'indice italiano andando a fare delle protezioni quindi delle vendite allo scoperto di Eni, Enel per esempio per bilanciare la diversificazione che è un po' assente come vi sto dicendo all'indice italiano sono discorsi, non mi pare, sono discorsi tecnici che magari piacciono solo a quelli come me che stanno sul mercato da tanto tempo perciò vi sconsiglio l'ETF sul Fuzzimib Italia ma potete fare trading utilizzando l'ETF Fuzzimib Italia o il Future, meglio ancora c'è il mini Fuzzimib ragazzi che va benissimo il Future su qualsiasi broker lo trovate Italy40 per quanto riguarda il CFD oppure il mini Future per quanto riguarda i mercati normali quindi sulla vostra banca mentre per quanto riguarda gli investimenti di medio-lungo periodo in Italia è meglio utilizzare le stocks singole quindi andiamo a fare questa carrellata delle mie top 5 stocks italiane che in questo momento sono sulla cresta dell'onda e iniziamo con la prima ragazzi un po' scontata forse ed è la prima che è addirittura sopra i massimi storici ragazzi ed è recordati la nostra azienda Made in Italy che si occupa del settore farmaceutico quindi guardate cosa ha fatto post-Covid questa è stata la crisi del Covid una super occasione di buy ragazzi perché ricordati è un'azienda molto forte da un punto di vista anche familiare anche ha un management e una gestione molto forte per cui da qui sono arrivati massicci ordini di acquisto probabilmente non solo in Italia probabilmente anche dall'estero ragazzi che hanno creato questo trend importantissimo per ricordati praticamente è quasi raddoppiata ragazzi perché dai minimi toccati che erano di 28 euro su questa stocks siamo arrivati a massimi qualche giorno fa intorno ai 45 euro beh ragazzi è notevole l'impatto di questo trend riazista stiamo parlando più o meno del dovrebbe essere intorno al 60% ragazzi di rendimento in questa fase di covid ma se andiamo tra le altre cose a vedere anche i trend degli ultimi anni vi rendete conto che poi guardate cosa ha fatto questa stocks sembra una stocks americana sembra un'apple americana quindi ricordati sicuramente può essere utilizzata per esempio per investimenti di medio-lungo periodo per quanto riguarda il mercato italiano un livello importantissimo se dovessimo indicarlo da un punto di vista tecnico è questo livello qui questo livello ragazzi che è in pullback in questo momento l'azienda sui livelli precedenti di massimo che erano stati toccati nel 2017 nel 2019 e di nuovo nel 2020 vedete sta facendo un pullback perché? perché è un livello importantissimo quindi attenzione questo è un buy the dip ovviamente chi di voi conosce la strategia l'ho spiegata tantissimo nel mio corso di formazione di trading time chi di voi la conosce questa strategia sa anche come applicarla e soprattutto ragazzi proteggete sempre i vostri investimenti numero uno della nostra top 10 ricordati l'altra ragazzi è Prismian che si occupa in sostanza di è un'azienda italiana che è leader nel settore dei cavi di natura delle telecomunicazioni anche per esempio nel discorso relativo alla fibra ottica ed è leader ragazzi in questi cablaggi e soprattutto questa è una fase particolare per Prismian perché ragazzi perché con lo smart working con tutto quello che effettivamente è uscito fuori dal discorso covid beh potrebbe avere nei prossimi anni notevoli commesse per esempio per la costruzione e l'implementazione di strutture di cavi legati alla fibra ottica diciamo all'aumento delle bande relativamente a internet quindi interessante ragazzi anche questa azienda e ha un trend in questo momento importante non ha recuperato i massimi pre-covid che li vedete qui però ragazzi è ritornata più o meno dove era prima ora questa è un'azienda che non ha il trend rialzista di ricordati ma è un'azienda che ha fatto un doppio minimo e una reazione se dovesse salire per esempio al di sopra di questo livello di prezzo la potrei anche valutare per un investimento di medio lungo periodo oppure se questa azienda fa un'inversione cioè un nuovo minimo e poi un'inversione all'interno di questo canale potrebbe essere anche valutata per un investimento di medio lungo periodo quindi altra stocks all'interno delle nostre top 5 poi andiamo su ST Microelectronics una delle delle stocks più antiche nel settore tecnologia italiano italo-francese e vedete un po' anche ragazzi intanto l'oscillazione anche negli anni precedenti quindi dal 2009 questa stocks è sempre stata in trend rialzista ovviamente molto volatili perché le stocks italiane ma europee in generale non hanno quella bellezza dei trend delle stocks americane ragazzi però vedete ancora una volta negli ultimi periodi ha fatto una ripresa abbastanza importante della crisi post-covid non è tornata ancora una volta sui massimi storici che sono qui li vedete però sta indicandoci comunque un trend che non è affatto male ragazzi perché perché ha fatto questa gamba rialzista adesso ha fatto questo minimo che dovrebbe essere il primo minimo dopo quello della crisi covid e adesso dovremmo vedere un innalzamento al di sopra di questo livello di prezzo se lo fa ancora una volta indica una buona inversione nel medio periodo già questi possono essere dei prezzi anche di acquisto per i trader ovviamente non per investitori perché andrebbe posizionato uno stop loss vedete intorno a questa fascia quindi poi bisognerebbe gestire questa posizione a terza questa è la nostra terza stocks per quanto riguarda la borsa italiana in lista nella top 5 poi abbiamo ragazzi enel enel perché è meglio di eni perché in questo caso oltre a pagare un dividendo notevole è abbastanza laudo è consistente mi pare intorno al 5% andiamo a vedere chiaramente si intorno al 5% ragazzi chiaramente bisognerà vedere se verranno confermati questi tipi di dividendi dopo il covid però in pratica enel potrebbe anche essere una di quelle stocks di natura ciclica cioè legati al settore crescita se in effetti nel 2021 sembrerebbe che i mercati vadano verso una crescita abbastanza importante dell'economia e se l'italia riesce a cavalcare anche questa crescita negli ultimi anni sapete bene non c'è riuscita infatti il nostro PIL è terribile dal 2011 in poi e nel momento in cui comunque dovessimo magari riuscire anche a cavalcare questa onda enel potrebbe essere abbastanza potrebbe beneficiare di questo rialzo vi ricordo tra le altre cose ragazzi che guardate che trend aveva negli ultimi anni cioè dal 2011 ha iniziato questo trend bello bello molto bello difficile ma bello di natura rialzista ragazzi questa crisi del covid nel caso di enel non ha intaccato il trend rialzista e sono pochissime le aziende italiane che sono in questa condizione non sono tante sono veramente poche quindi enel entra nella nostra top 5 tra le aziende già in questo momento ragazzi sta facendo un po' quello che ha fatto ricordati da un punto di vista di analisi tecnica perché sta testando vedete i massimi della fase di rimbalzo post covid però ragazzi è un po' in difficoltà ancora perché sapete che il settore petrolifero in generale è in difficoltà ma devo essere sincero ha reagito meglio enel di exxon oppure general electric per esempio che sono delle aziende americane dei colossi che però ragazzi non hanno avuto la stessa qualità di reazione della nostra azienda energetica enel bene ragazzi siamo alla fine all'ultima azienda che metto nella mia top 5 ragazzi ma non investo in questo momento in questa azienda non lo farei diciamo in questo istante però perché l'ho messa perché intanto è un bancario garbava metterci un bancario ma l'ho messa soprattutto per i dividendi ragazzi e faccio riferimento a Mediobanca Mediobanca ha un'ottima fase di bilancio diciamo un'ottima analisi di bilancio almeno se ragazzi adesso ve lo dico un po' in sordino se sono veri i bilanci perché purtroppo poi alla fine quando andiamo a valutare aziende italiane dobbiamo starci attenti a queste cose dopo le famose crisi di Parmalat il cilio della situazione eccetera ma poi perché sono bancari ragazzi e i bilanci bancari sono veramente incomprensibili sono pieni di sotterfuggi quindi attenzione nella valutazione di un'analisi fondamentale su un bancario perché è estremamente complesso ma in linea di massima perché mi piace vi faccio vedere l'analisi perché ha un dividendo gigantesco ragazzi se verrà confermato il dividendo è del 9% quindi insomma ragazzi anche se verrà tagliato quest'anno in linea di massima lo scorso anno ha pagato questo dividendo significa che una fase eventuale di crescita o di stabilizzazione della nostra economia nel 2021 potrebbe portare questo bancario a far ridare un dividendo di questo tipo o comunque salire un po' rispetto ai minimi che ha avuto d'altronde ragazzi vedete anche come a ottobre del 2019 il mediobank era comunque discretuccia come azienda certo sempre un bancario resta ma non ha il trend di unicredit che è terribile ragazzi ho la stessa intesa San Paolo che non ha avuto un trend molto positivo negli ultimi anni guardate per esempio dal 2012 il mediobank è riuscita ad avere questo tipo di trend che lo definiremo un laterale rialzista che ragazzi non è male appunto visto il settore ricordiamo che questo è un settore bastonato dopo il 2008 è stato un settore abbandonato da molti il livello però di price in questo momento è estremamente rischioso è simile un po' alle aziende americane quelle che sono nel settore degli aeroporti quindi degli aerei scusate e quindi insomma ragazzi io attenderei un po' ma un break per esempio di questo livello di massimo innescherebbe anche in questo caso un trend di natura rialzista perché avrebbe fatto questo e sarebbe magari da valutare per un ingresso di medio lungo periodo sempre con le dovute accortezze sapete bene che non sono consigli finanziari abbiamo visto la top 5 delle aziende italiane borsa italiana oggi mercati azionari cosa ne pensate fatemelo sapere nei commenti io come sempre vi ringrazio e noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio